CUCCHI STEFANO Sono Cucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1978. Si dichiara innocente o ammette l'a debito? Allora, io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio e colpevole per quanto riguarda la detenzione. Scusi l'informazione! Sei scemo, ho un fratello scemo! Avevi detto che stasera dormire qui? Stasera non posso, vado a fare un giro con un amico. Che stanno a fare qua? E' qua che c'è di bello. Siamo carabinieri, dobbiamo fare una prequisizione. L'hanno arrestati in piena nuca e non si fanno ritornare. Devi dirci la verità e basta. E' da 15 anni che la verità è stare un buco. Niente è successo? Era meglio che dormivano qui. Dobbiamo entrare. Almeno sapere come sta, non sappiamo neanche che cosa gli è successo esattamente. Possiamo parlare con i medici? Cosa è successo? Sono male, c'ho freddo. Fammi vedere questi occhi. Lasciate questa, eh! Scrivi che il paziente rifiuta la visita. Il dolore è traditore. Viene fuori piano piano. Guardia! Guardia! Dobra, ce no?